Speriamo gli amici della Fondazione vorranno fare con noi. Il 7 novembre è stato celebrato il primo dei due appuntamenti dell'omaggio a Mario Dondero organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia in collaborazione con il Fotocine Club del Capoluogo. Nella Sala Farina è stata proiettata un'anteprima assoluta per Foggia e per la Puglia, il film documentario Paradiso, preceduto dall'incontro con il regista Alessandro Negrini e con Mario Dondero, celebre reporter che ha segnato la storia del fotogiornalismo del secondo novecento e che ha collaborato alla genesi del lungometraggio. Un incontro all'insegna della simpatia ma anche della riflessione su temi della storia recente come il contrasto tra cattolici e protestanti nell'Irlanda del Nord e sul valore del cinema e in particolare del documentario come strumento di testimonianza e di analisi sociale. Dopo i saluti della Presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Banca del Monte, professoressa Rina Di Giorgio Cavaliere e del Presidente del Fotocine Club Foggia, dottor Nicola Loviento, ad aprire la serata è stato il Presidente della Fondazione, professor Saverio Russo, che ha raccontato brevemente il valore dell'iniziativa della Fondazione del Fotocine Club, il riconoscimento del valore artistico ma anche sociale dell'opera di Mario Dondero attraverso la mostra delle sue opere allestite in Fondazione. Il professor Russo ha anche riassunto la vita e l'opera di Negrini, poeta ma poi anche regista per errore, come lui stesso si definisce. Nato a Torino, ha trascorso la seconda metà degli anni 90 viaggiando in Europa e scrivendo. Nel 2001 si è trasferito in Irlanda del Nord. I suoi lavori più noti parlano di esclusione sociale e di senza tetto e sono una combinazione di documentario, fiction e poesia. Il regista, dotato di una naturale simpatia e di grande comunicativa, è entrato subito in sintonia con il pubblico, anche grazie alle gustose battute con le quali ha condito il suo intervento. Negrini ha raccontato della sua vita a Derry, dove è arrivato quando era da poco finita la sanguinosa guerra civile tra cattolici e protestanti, guerra che ha lasciato un muro, edificato nel 1969 dall'esercito britannico, per sedare gli scontri tra repubblicani indipendentisti e protestanti unionisti. E proprio della vita odierna nel Fountain, la piccola enclave protestante all'interno di un quartiere a maggioranza cattolica, racconta Paradiso, la storia di una piccola evasione da un carcere a cielo aperto attraverso la musica. Don Dero, intervenuto alla serata, ha subito detto di non voler rubare spazio al protagonista, Negrini, e alla sua opera. Ha ricambiato gli apprezzamenti del regista, raccontando della bellezza del documentario, della speranza che potesse essere uno stimolo per una Derry migliore, per un mondo migliore, in cui i conflitti tra gli uomini vengano superati nel rispetto dei diritti di tutti. Non è un caso, ha detto, che la mia mostra sia intitolata Dalla parte dell'uomo e al bene dell'uomo, di tutti gli uomini che dobbiamo tendere, cancellando guerre e stermini senza senso.